Premiamo scoperto, ci sono un personaggio, ci le assumono, possiamo fare un personaggio e facciamo un personaggio, c'è lo premiamo come rappresentante del Clarewell, ma anche come un personaggio di una simpatia straordinaria, ci aiuta sempre, si è sempre vicino, lo so che ogni anno si sente dire queste cose quando parliamo di lui, però lui è una persona veramente gentile e straordinaria, Mnabel Delfistia Caravale. Grazie come sempre a Rudy e a voi tutti, specialmente in Stato. Come sappiamo bene, Altonomeo non fa solo le macchine, c'era il bagno. In un museo di Altonomeo ho visto una cucina. Ebbene, in un posto io ho trovato un pezzo della cucina che è qua dentro. Adesso al museo di Altonomeo ho mandato a Fabio che vede se questo è vero. Se no, potremmo riscovati. La chiesa di Mladen è un pezzo di... Diccio! 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 No, è Diccio! Solo tu trovi queste cose. Diccio! 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 Si, dopo che... El mio Fachè�� Grazie per la visione!